Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Alina era una donna che si confidava poco, ma chi la conosceva bene si era accorto che qualcosa la turbava. Dopo le rivelazioni degli amici più stretti della 42enne rumena morta a gennaio per il cui decesso e ora chiamato a rispondere per omicidio il compagno, a parlare è una delle sue sorelle. Alina era una donna che i problemi li teneva per sé. Mi disse che lei non era più quella di una volta. Così Maria Magdalena Kozak ha il pescara sulla sorella trovata morta a gennaio 2023 nell'abitazione di Spoltore, dove viveva con il compagno Mirko De Martinis. Sui social, la donna, a nome di tutta la famiglia, ha lanciato anche una raccolta fondi tramite IBAN per sostenere le spese legali che dovranno comunque essere affrontate. La morte di Alina in una prima fase sembrava fosse sopraggiunta per cause naturali. Poi, specie con le risultanze della perizia medico-legale, è arrivata la svolta. La 42enne è stata strangolata secondo i periti e il magistrato ha disposto l'arresto dell'uomo che per la procura l'avrebbe uccisa. Lui si dichiara innocente. Su quella relazione però qualcosa preoccupava la famiglia che non ha mai dato il suo placet. Lui ce l'aveva subito messa contro, dice ancora la sorella Maria. Alina avrebbe detto qualcosa in più all'altra sorella, Octavia, chiedendole di non raccontare nulla a Maria in quanto forse non voleva darle pensieri dovendosi occupare di un fratello disabile al 100%. Che ci fossero problemi però, Maria che vive a Brescia lo aveva capito, tanto che Alina voleva andarla a trovare e aveva cercato anche di fare il biglietto aereo, ma non avrebbe potuto portare il suo cane che per lei era come un figlio. La sorella Maria afferma poi che fosse Alina a mantenere la coppia, perché lui, un lavoro vero, non lo aveva mai avuto ed era questo uno dei motivi per cui la famiglia non aveva mai condiviso questa relazione. L'ultima volta che l'ha sentita, Maria è stata il venerdì prima che morisse. Octavia si era accorta che Alina era triste e ha chiesto un aiuto economico perché non riusciva a mettere i soldi da parte. Una richiesta arrivata anche al fratello che viveva in Germania e sempre negli ultimi giorni prima che fosse trovata cadavere nel suo letto. Questo è il racconto della sorella che, come già riferito da amici stretti, delinea i contorni di una relazione problematica, ma spetterà alla magistratura accertare le responsabilità sulla morte di Alina Kozak.